di amicizia. Andiamo al segno dell'acquario, l'una complicata, quella che transita in Scorpione, amici dell'acquario, c'è anche un Marte piuttosto irascibile in quel settore del cielo, quindi voi rischiate di diventare molto aggressivi con le persone che incontrerete quest'oggi. Anche nei rapporti di coppia volete sempre aver ragione, volete sempre imporre il vostro punto di vista e questo può provocare anche dei litigi con il partner. È chiaro che venere adesso nel segno del leone è destinato a scombussolare anche un pochettino la vostra vita sentimentale perché porta delle piccole o grandi crisi nei rapporti di coppia che possono essere superate a seconda proprio della solidità del rapporto che state vivendo. Una giornata questa che vi vede un po' in difficoltà anche sul lavoro, Mercurio nel segno del cancro vi dà sempre una mano ma in questa giornata non sarete molto lucidi. Andiamo e chiudiamo con l'insegnamento.